buon pomeriggio cari amiche e cari amici vi ricordo sempre di iscrivervi al canale youtube di carlo pelle gatti di attivare la campanella di mettere i vostri like più di mille più di duemila e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione all'applicazione numero 10 sentite la voce carica perché domani gioca il milan perché fra quattro giorni gioca il milan la champions league la partita di finale la grande occasione di entrare nella storia nella storia nella storia e allora avendo questo profumo di occasione tanto signori peggio del milan del primo tempo non vedremo siamo sicuri e speriamo di vederne uno bravo un bel milan tonico ma cominciamo a parlare secondo me si sto proprio pensando pensiamo alla formazione che affronterà lo spezia perché domani sera arbitro doveri ore 18 gioca spezia milan partirò fate finta di interessarvi cosa farò io ma in questo momento rappresento tutti quelli che domani partono tutti là presenti allo stadio di la spezia in una giornata che si annuncia incerta ma speriamo visto che sarò in curva di non prendere tanta acqua non è un problema l'importante che i ragazzi vincano perché è una partita fondamentale se vinciamo domani abbiamo fatto secondo me forse il passo decisivo per arrivare fra i primi quattro intanto che c'è la juventus poi vedremo 22 sapremo cosa succederà alla juventus e rimarrà questo punteggio se gli toglieranno x punti o gli toglieranno y punti quello che conta che siamo noi che dobbiamo giocare una bella partita con lo spezia con lo spezia la formazione non è ancora diciamo sicura al cento per cento ma credo che non dovrebbe farcela dalle prime informazioni che ho a milanello né messias per un piccolo fastidio muscolare né crunic per un problemino non grave al ginocchio che però non gli impedisce gli impedisce di essere al cento per cento quindi non credo che vengano convocati non c'è ancora l'ufficialità credo che non vengano convocati vediamo se invece poi magari riescono a recuperarli però li metto in forte dubbio entrambi non ci sarà leao che continua a lavorare per essere al massimo della condizione martedì e allora megnan megnan sarà in porta che in un primo tempo già già disastroso sul piano morale mi si fa male ben assè poi vedo anche megnan con i medici intorno che si guardava la gamba e c'era come alternativa visto che tartarusano non c'è mirante non ho nulla contro mirante ma non sta giocando con continuità quindi ha i problemi di un portiere che non sta giocando con continuità e la ponava 2004 ho tremato però meno male almeno quello e poi ci ha salvato megnan in porta a destra calulù turno di riposo per calabria che dovrebbe andare in panchina a sinistra teo hernandez i centrali ecco qua ancora tomori poi magari verrà avvicendato se le cose andassero bene e credo visto che ciao è squalificato credo ancora chier che non ha giocato in intera partita perché se calulù gioca a destra l'alternativa sarebbe stata calabria a destra calulù tomori e invece giocando calulù a destra ecco che l'alternativa non c'è e gabby occhier gioca chier dovrebbe giocare chier con tomori a centrocampo gioca ancora tonali vista l'assenza purtroppo di benasser che deve essere operato al ginocchio e quindi tonali gioca ho un dubbio e poi ve lo dico a destra visto i problemi di messias dovrebbe giocare se le me cares a sinistra alla regola non credo che metta ancora giro dovrebbe essere orighi e redici o rebici orighi ma credo che orighi piace molto a sinistra quindi a scusate a sinistra non a destra a sinistra se le me cares a destra a sinistra orighi o rebici ma credo origi e davanti e davanti rebici e allora ne ballano tre dato che pobega giocherà sicuramente l'unica incertezza è o vranx o diaz difficile o de chetelare se gioca pobega insieme a tonali ci sono le chance per de chetelare o diaz se invece pobega verrà messo la mettiamo vranx al di fianco a tonali quindi la formazione con una parentesi è megnan calullu chier tomori teo ernandez tonali mettiamo vranx o de chetelare perché se gioca vranx pobega là con se le me cares rebici origi se invece gioca de chetelare pobega tonali se le me cares de chetelare origi e redici questa la formazione praticamente ballano due o vranx di fianco a tonali o pobega di fianco a tonali con de chetelare amanti non credo che metta girù non credo che metta diaz non c'è nulla di ufficiale sì però vi ho già detto nove anzi dieci undicesimi non credo ripeto che metta girù questa è la formazione che affronta il che affronta il lo spezia domani arbitro ripeto il signor doveri ho letto tante cose anche autorevoli colleghi forse molto pragmatici poco sognatori troppo pragmatici che razionalmente dicono do già per perso la partita con l'inter mettiamo la formazione titolare domani e le alternative con l'inter no non sono d'accordo razionalmente pragmaticamente potrebbe essere diciamo un'opinione che ci sta però io la semifinale di champions league la gioco una volta e non so quando giocherò la prossima quindi me la voglio giocare con i miei migliori e poi se rischio qualcosa arrivare fra i primi quattro ma c'ho anche l'uno per cento di superare il turno andare in finale io questo uno per cento me lo gioco tutto senza rimpianti cosa andiamo davanti all'europa davanti al mondo per fare un'altra figura il milan sette volte campione del mondo la squadra più forte della storia se quella di sacchi la squadra che ha vinto che arrivate in finale con madrid nel 57 58 con schiaffino con grigio 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 o grillo più facilmente con l'idome con questi giocatori che ha vinto a lisbona con altafini e rivera andiamo a fare la figura dei miseri in una semifinale di cempio già ci ha tirato le orecchie anzi già ci ha tirato gli strali gerard pesante nel suo giudizio offensivo ma ma offensivo sì ma abbiamo sofferto come lui lui da appassionato di calcio noi da tifosi del milan vedere questo milan del primo tempo controllato dominato ogni volta che venivano avanti succedevano errori eccetera ma dimentichiamo quel derby lì lo dobbiamo dimenticare che concentrarci sulla partita con lo spezia e sulla partita contro l'inter e poi vedremo le altre quindi questa dovrebbe essere la formazione di un milan che parte in aereo per pisa e poi ci sarà il pullman del milan che già in attesa all'aeroporto di pisa che lo porterà lo porterà a spezia per il ritiro la situazione di benasser è da capire quando potrà rientrare e questo porterà certamente un doppio lavoro per i dirigenti del milan perché un centrocampista certamente l'avrebbero preso e quello che vi ho detto per primo anche se a me non piace stare chi primo chi secondo però io loftus chic vi ho detto il mio consiglio prenderei subito loftus chic lo prenderanno direi che ci sono delle possibilità e loftus chic sarebbe l'ideale l'ideale diciamo cocktail l'ideale fusione tra che si e c'è la noglu che è un giocatore con tutto quello che possiamo dire di cialanoglu che però non siamo riusciti a trovare l'alternativa di un giocatore di corsa e di qualità loftus chic unisce la fisicità di che si la corsa di che si e cialanoglu e il buon piede di cialanoglu quindi un giocatore un giocatore completo però vista l'assenza di benasser attenzione non dimenticate pausa teatrale c'è anche a coppa d'africa gennaio nel mese più antipatico perché ci sono impegni di coppa italia di campionato ci devi preparare presto la prima partita di champions league se tu sarei stato bravo a passare il turno e li non abbiamo benasser in ogni caso infortunio non infortunio quindi servono due centrocampisti pobega può essere l'alternativa una delle alternative ma serve uno quasi titolare quindi loftus chic un titolare alternato a cronici tonali ma a titolare c'è pobega ma serve il titolare quindi sarà un lavoro importante da parte dei dirigenti da parte degli uomini di mercato del milan andare a cercare i parametri zero andare a cercare giocatori non costosi ma giocatori di qualità e nel video prossimo commenteremo nel video di questa sera dove ci sarà il q&a rispondo a tutte le vostre domande e chiederemo proprio e parleremo proprio delle parole di paolo maldini paolo maldini sul futuro un appello alla proprietà con con educazione con con amore verso il milan che è l'amore della proprietà perché giorgio furlani è stato decisivo nella chiusura non preoccupatevi non aspettate altro magari qualcuno hai visto ma il rinnovo ci sei e ripeto siamo già la questione le haolo già archiviata si tratta solo di aspettare il comunicato mercoledì o giovedì quindi non ci sono né sorprese né mai arrivato di mbulla non c'è e la questione le hao è chiusa la questione le hao è chiusa si aspetta il comunicato che verrà che verrà diramato lunedì o scusate mercoledì o giovedì della prossima settimana quindi giorgio furlani protagonista importante di questa trattativa dopo che maldini massara erano stati protagonisti importanti con le hao quindi la coesione chiaro che poi ci sono c'è la dialettica e quindi commenteremo queste parole di maldini e poi mi interessa la vostra opinione se vi piace questo video mettete il vostro like oltre 2000 iscrivetevi al canale youtube di carlo pelegati dalla voce avete capito carichissimo non vedo l'ora di partire per spezia